Oggi allora prepariamo il Bancù per fare questo fusion africano e siciliano. Eleven nasce dall'incrocio e dall'incontro di due idee, alla lotta allo spreco alimentare e all'inclusione, quindi al lavoro, all'interno di un ristorante, attraverso il cibo di ragazzi che vivevano situazioni di disagio. Yeah. My dreams? It's a good dreams. I want to have families. I want to do a lot of things. L'idea appunto è quella della fusione, quella dell'integrazione e dell'inclusione, il tramite il cibo. Noi stiamo, attraverso una scuola, un laboratorio di cucina, stiamo costruendo, cercando di trovare dei sapori nuovi, dei nuovi sapori che possano appunto dimostrare questa cosa qui. It's from north of Italy to the south of Africa with polenta and this smoked paprika. Mmm. Ok. Benvenuti a tutti. Buono, molto buono. Buono, grazie. È un po' corrompo. Buono, grazie. Buono, grazie. Buono, grazie. Buono, grazie. It's hard to integrate, but I was lucky to have the opportunity to follow the course to become a cultural mediator. A lot of people think these people who arrive are bad. They are not bad. They can be a good people for tomorrow. Grazie a tutti.